Musica Ciao a tutti sono Spiegano98 e benvenuti a una nuova puntata di Minecraft PvP Oddio sto facendo un casino Ok, ce l'abbiamo fatta Quindi, come al solito vi ringrazio tantissimo per gli apprezzamenti che state facendo sulla serie di F4D Visto che mi sono dimenticato nelle video di DDD, Minecraft, no, cioè volevo dire GTA San Andreas, mi ringrazio Mi sono dimenticato di ringraziarvi tantissimo, chi è il figlio di grandissima bottarga Infiniti, grazie, è molto utile Ce la facciamo salire, sì, 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 sì Ma sbaglio, è stata la che vedo in serra Strano, lo sto davvero io, non è possibile What the fuck C-c-c-c-c-come cazzo hanno fatto? MC Ed, sicuramente Non so dove devo andare Non lo so Però E' come a prendere la spada alla mano Vediamo un pochino Adriana Dimmi Allora Aia Oh cazzo Oh 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 Senti, mi devi spiegare come fai a colpirmi da mezzo metro Senti, va a far chiudo Scusate un attimo che mi sono dimenticato come al solito Il timer rozzo Timer rozzo C'è una cosa di più interessante qui C'è una cosa di più interessante qui C'è una cosa di più interessante qui Sono per caso nel stesso posto di prima Sì Potevo notarlo prima Allora innanzitutto consigliarmi vi prego Un gioco Un gioco Da fare nel video il sabato sera perché sono Messo proprio male Ve lo assicuro Sono messo malissimo Oh senti Non so neanche salire le scale Oh scusate Perché sono così Ok scusate Ho dovuto spostare il microfono se no What the fuck Cioè io ho fatto tutta questa camminata per arrivare qua sopra In realtà potrebbe essere anche utile Se non fosse che non lo è Anche perché sono squadra rossa io Sì Non ci provo lo stesso Non so No Però non mi credo Sì La risposta è sì Sì Scusate la spostata al microfono Forse meglio se lo metto così Scrivetemi nei commenti O nelle mail O dove volete Se si sente meglio così O così Oh una spada Oh è sparita Ciao Eh te ho visto qualcuno No no non mi viene Tra il litigante il terzo ti picchia Dove sta seguendo quello dove cazzo è finito Ciao Ho ammazzato qualcuno finalmente Oh merda Sono nella merda sino alla Sino al collo ecco tutto aspetta Deve mettere il microfono normale perché non riesco a usarlo così Così Allora Forse con la mano purtroppo Oddio Oddio Ciao Non capisco Ma che cazzo succede Stai facendo finta Vedo che hai What the Riuscirò ad ammazzare qualcuno prima o poi Check your stats Sì un giorno lo farò Anzi Così quasi nel montaggio vi inserisco le statistiche di gioco Lo lasciamo stare Potrebbe essere interessante Ma non lo è A proposito Sono in procinto di fare un bellissimo vlog Vi giuro è da un paio di giorni che Non so bene di cosa parlare però voglio farlo stop Voglio farlo Il problema mio è che Tendo a fare un po' il giornalista tra virgolette Nel senso Sono troppo formale Anche nei vlog Non evite non sono formale Ma qui sono stronzo Piano 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 Ma fanno culo Oh oh Bola Allora Vedi mo pochino Bola Ciao Ma cosa vuoi fare Ma cosa vuoi fare Ma cosa vuoi fare Cosa vuoi fare Ma cosa vuoi fare Ma cosa vuoi fare Ma perché abbiamo questa Stupida Spada Di Pietra Boh Non mi piace molto questa partita Ci vediamo tra poco Merda Siamo nella cacca Ragazzi Ecco cosa mi risponde In qualsiasi server Ma questo è normale Ma Per esempio a HVMC NC Mi da Credo ci sia qualche errore Non lo so Qualche problema Nel server Mojang Va bene A tra poco Per voi Per me sarà un retto 2 Ci vediamo tra poco Ciao Eccoci qua Allora ho risolto Mi è bastato rasettare Il DNS Cioè la cache del DNS Il volume troppo basso No Perché ce l'ho così basso Sento bassissimo Vabbè lasciamo stare Ciao Sfono squadra blu Ok ci prendiamo Quando si può distruggere Ok Va bene va bene Ricominciamo dovevamo arrivati Cioè Più o meno Circa Oh Luca Sì molto utile Va bene Va bene Va bene Va bene Ciao C'è qualcosa di interessante In quella bellissima cesta Non dimmi che ci dicevo Perché Ok non c'è niente Deve seguire la gentaglia Perché non so dove devo andare Credo qui Qui No 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 Non è il posto adatto per te No Non mi devo incastrare l'e mezzo La vedo che c'è No Dove devo andare Qua No Ma sono da solo in questo server No Ok Perché non c'è niente Perché non c'è niente Ok che c'è niente Allora Vediamo dove va D'oro Ahah Un c'è niente Molto utile A me ci facciamo Una armatura Armareggio Craft in table No merda Quelle di mi servono Ah 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 va bene, ci facciamo una bella armaturina so che c'era una schifezza questa armatura perché si sa, è risaputo che loro non serve a niente non dire si non dire gatto se non ce l'hai nel sacco ma soprattutto non dire muro se non ce l'hai nel magari è meglio non continuare allora citazione, lasciamo stare però loro non faccio niente quanto ce n'è ma quanto what the fuck ce n'è what the incredible fuck io voglio semplicemente andare verso da ora mi faccio una cesta chi cesta? allora ci facciamo una bella doppia cesta bene mettiamo la roba qui tanto noi non ce ne facciamo niente questo oro anzi una spada magari anche due facciamo così so benissimo che non serve a niente la spada di oro mancanza d'altro è meglio di certo di quella di pietra credo what fa più quella di non posso crederci ma fuck off non ci posso credere che fa più quella di pietra fa più quella di pietra ci rinuncio vado a suicidarmi no scherzo no anche qui è pieno d'oro ma da dove vuole fa si può uscire vediamo un pochino what the world eccoci qua abbiamo trovato l'uscita ora possiamo finire il video no scherzo scherzo spieghiamo tutto scherzo sempre no brava 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 gravità la gravità della cosa ok basta oh merda davvero finita la partita ehm ok stanno semplicemente cambiando ehm ehm aiutoooooo oh se li stiamo tutta ho sempre più voglia di creare una non mi pigliate una serie di minecraft una serie serie proprio di minecraft minecraft proprio cioè avete capito di cosa intendo cosa intendo proprio una serie giornaliera di minecraft magari non vanilla come vi ho detto sono fissato diciamo delle modalità modate ok ok ora so che là non devo cadere dalle tic tac toa tic tac toa tic tac cosa è ah ok tic tac ormai tic tac mi dicono dalla legge naturalmente come solito tic tac tic tac tic tac a a a a la volevo l'utilità di questi blocchi è infinito Allora, vediamo un pochino cosa c'è qui, perché c'è tanta gente, cosa c'è qui? C'è qualcosa, aha! Due, i nostri semplici, quattro, blocchi di iron. Ne premo quattro perché ci servono anche per, 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 per farci un'arma, che ne so. Allora, diciamo dei piedonzoli, piedi, pantaloni. Con tre L, chestplate, e poi, per ultimo, non meno importante, il bellissimo, iron helmet. Ci facciamo una spadonzo, ma senza stick mi sembra un po' impossibile. Facciamo quattro stick, facciamo una cazzata, ok, facciamo due spadonzole, bene, facciamo qui. Ce l'avevo già la spada di ferro, sono un cretino, sono un coglione. Indossiamo il niente se non togliamo questa. Ok, ci vediamo questo ferro. Siccome sono 15, facciamo un bel blocco. Lo mettiamo qui. E tutto il resto lo mettiamo qui. Ok, possiamo partire. Taradada, taradadada. Basta. Oh, bellissima, si può prendere, che cos'è, che cos'è, che cos'è? Ah, giusto, la mostro, quella di spawner. Ah, va bene, va bene, va bene, ho sempre più desiderio di giocare, ma anche... Non può essere, me lo fai fare un video? No, a desiderio di non farlo. Anche perché decisamente, proporzionalmente alla velocità della luce, è a... Wegener, è al modello atomico di Bohr, abbiamo finito il tempo a disposizione, ecco tutto. Quindi, Spiega98, cercherà di togliersi da mezza la mischia, da mezza le palle, più o meno. Eccoci qua, andremo in un posto strategico, in quanto possiamo fare così, così, e salutarci senza... Senti, stronzo, non mi scherzare. Grazie, grazie, mi sta rovinando il finale. Allora, io sono Spiega98, se il video ti è piaciuto, metti mi piace. Iscriviti e condividi. Oggi l'ho detto al singolare. Quindi, mi trovate sempre su Twitter, su Google+, su Spiega98.x10.mx. Mi hanno chiesto il link dei vari social network, insomma, delle varie... Dei vari post in cui trovarmi, sono tutti in descrizione. Così, per dire. Tanto per ricordare. Ehm, cioè no. Niente, il video è finito. E aspetta, è bellissima la cravatta. No, non volevo vedere quello. Volevo vedere questa cravatta. Aspettate, questa. Vi giuro che sta lato è fine solo per lo zoom. Ciao a tutti. Ho detto ciao? Rispondi! Ciao a tutti. A... Tutti! Tutti!